Ragazzi, ho organizzato una festa bellissima! Una sorpresa bellissima per Bobbo Vieri, Costanza Caracciolo, organizzato una grande festa sorpresa per i 47 anni dell'ex bomber, padre delle sue bimbe, Stella e Isabel. Erano presenti tutti gli amici storici della coppia nel party in piscina con dress code Total White a Forte dei Marmi. L'ex attaccante dell'Inter ha documentato tutta la serata con le stories Instagram. Grazie a tutti. Grazie a tutti.